il suo naso. Adesso, grazie alla stampa, la gente non ha più un'opinione personale. Gli si deve dire cosa deve pensare. No, quello che deve sapere. Come ti sembra mio marito? In gamba. Avete parlato? Lui, soprattutto. Signora Casignac, ecco Gilles Lantier. Grazie, mia cara Nathalie. Sono molto felice di conoscerla. Dovrebbe venire di più a Limoges, è un posto che ha conservato tutto il suo fascino. Conoscevo molto bene il suo nonno, lo sa? Non gli somiglia per niente. E' meglio per lei. Ho sentito che si occupa di giornalismo. E a me hanno detto che sei stata te. E' bellissimo. No, 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 me l'hanno confesso. E' bellissimo. E' bellissimo. Ah, è bellissimo. E' bellissimo. No, no, no. Davvero? Certo. Certo, è certo, me lo ricordo bellissimo. Ma è incredibile. Io non sapevo niente. E' bellissimo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.